Il sabato di Serie A ha portato vittorie per Milan e Roma contrassegnate da polemiche, i rossoneri battono il Lecce di Gotti per 3-0 con le firme di Pulisic, Giro e Leao. Salentini furiosi per l'espulsione di Crestovice con l'arbitro per non aver annullato la terza rete rossonera. I giallorossi di De Rossi battono 1-0 la Lazio nel derby della Capitale, decisivo la firma di Mancini. Polemiche per il giallorosso Pellegrini che ha irriso la tifoseria bianco-celeste. Spettacolare Empoli-Torino. Finisce 3-2 per i padroni di casa in una girandola di gol ed emozioni per gli empolesi firme di Cambiaghi, Cancellieri e Niang. I Granata si consolano con la doppietta di Zapata. Nelle partite domenicali riflettori puntati su Monza-Napoli con gli azzurri in cerca della vittoria dopo il KO interno dall'Atalanta. Sfida europea in Juve-Fiorentina e due sfide salvezza cruciali Cagliari-Atalanta e Verona-Genoa, senza dimenticare Frosinone Bologna cominciata alle 12.30. Lunedì il posticipo serale Sara Udinese Intel.